Ci troviamo alla vittoria di via nazionale, il secondo campo interabattuta del comune di Castelfrentano, si allenano i giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio e gli allievi di mister Gabriele Di Felice, che ricopre anche la funzione di coordinatore dello staff tecnico, stanno facendo una partitella tra di loro, i giovanissimi e gli allievi, vediamo in forza, stavolta c'è Renzo, Benzetto, qua i due difensori, c'è Guido e Gabriele Donofrio, dove vediamo? Ecco questo con la casacca bianca Enrico Caporale, Colpo di testa di Cristian, ma fuori, ecco qua vediamo, questo esterno è Andrea, Nicola Perrucci lo si riconosce perché calza i guanti neri, cominciò già il freschetto, come mai stai? come mai stai? eh perché devi far giocare la marmella per 2.000 euro, dopo non puoi entrare, ah dopo ti fa entrare pure a te, eh sì perché non è... brava, ecco attacco Alessio, sulla fascia laterale passa a Medeo, che ripassa sempre Alessio, in progressione Alessio, palla viene, lo rincorre Nicola, lo tiene in gioco, ma ripassa a Riccardo, Riccardo con la casacca bianca, adesso ha preso la palla Alessandro Ramondi, dietro c'è Nicolò D'Angelo, rimette la palla, Costantini, Nicolò ha rimpiato, Alessandro, Alex Mammarella, sempre Nicola, Nicola Pellegrina Simone, indietro Ammanuele, ecco Enrico, Enrico con la casacca bianca, ma viene subito, ha ripreso Cristian, passa ad Alessio, adesso Nicola Perrucci, ripassa Andrea, Andrea passa a Tei di Mata, Tei di Mata, lo ripassa al centro, ma viene rimpiato da Simone, o D4, va bene, sta là, Vai un po' in porta, ciao,